Buongiorno a tutti e grazie. Il tema è assolutamente stimolante, è vero parlare di nucleare, di ritorno al futuro e quindi di necessità di includere anche il nucleare fra le fonti di produzione energetica negli anni passati comportava attacchi di ogni tipo, però come il segretario della Lega diciamo che non mi spaventa la polemica di qualcuno se in ballo c'è il futuro del paese, se avete ascoltato Roberto Calderoli prima di me parlare di federalismo, di autonomia, di valorizzazioni delle autonomie locali, qualche anno fa era qualcosa di eretico, adesso fortunatamente è patrimonio comune. Il ministro dell'infrastruttura e dei trasporti ha il diritto e il dovere di garantire la mobilità, di progettare e finanziare quella che sarà la spina dorsale del paese. Quindi grazie innanzitutto perché la politica ha il dovere di esprimere valori, però deve anche fondarsi sui numeri, sui dati di fatto. È quello che al governo con i 5 Stelle facemmo per giorni e notti sulla TAV, nel senso che qualcuno mi voleva convincere che era più utile spendere dei miliardi per riempire un buco scavato sotto una montagna che spendere gli stessi miliardi per finire il buco sotto la montagna per permettere l'attraverso del momento dei treni. Fortunatamente ha prevalso la razionalità, il buon senso e quindi nel 2032 il primo treno porterà merci velocemente fra Torino e Lione, così come sempre nel 2032 il primo treno porterà merci fra Bolzano e Innsbruck. Ovviamente la questione energetica è una fonte dirimente, non tanto in Italia quanto in Europa negli ultimi anni ha prevalso l'ideologia, sulle idee ha prevalso l'ideologia, lo pseudoambientalismo che ha come prima vittima l'ambiente stesso, perché alcune politiche imposte da Bruxelles su cui conto riusciremo a intervenire invertendo la rotta nei prossimi anni, nel prossimo mandato dell'Europarlamento, non hanno niente a che fare con l'ambiente. Approvare per norma dall'alto in basso dirigisticamente che dal 2035 ogni auto comprata e venduta debba essere solo ed esclusivamente elettrica è una fesseria senza nessun fondamento scientifico, ambientale, culturale, sociale e industriale. Significa legarsi mani e piedi a quella che non è esattamente una democrazia sviluppata come la Cina e significa inquinare di più, lavorare di meno. La produzione di CO2 del settore auto e autotrasporto italiano su base mondiale i tecnici la calcolano intorno allo 0,3-0,4% al massimo. Quindi noi massacreremo un intero settore produttivo per passare dallo 0,4% allo 0,2% e per arrivare a questo meno 0, in Cina stanno bruciando carbone come se non ci fosse un domani per produrre le batterie elettriche che poi fanno chic nella ZTL di Milano Centro. Ecco io conto di fare il ministro sulla base dei numeri, dell'oggettività e non dell'ideologia e dell'irrazionalità. La stessa Commissione europea ha riconosciuto il nucleare come fonte energetica rinnovabile, virtuosa, green, tanto da riconoscerla con la tassonomia fra le fonti finanziabili. Quindi siccome c'è qualcuno che soprattutto a sinistra se lo dice Bruxelles ha ragione a prescindere e non si capisce perché Bruxelles abbia ragione sulle auto solo elettriche, che ripeto è una fesseria senza capo di coda, mentre non debba aver ragione quando si parla della sostenibilità e della virtuosità del nucleare. Parto da chi ha messo a terra quei dati Open Economics, anche per arrivare, e siamo a Italia a direzione nord. Noi stiamo investendo una quantità di miliardi notevolissima sulle infrastrutture lombarde. Penso in questa legge di bilancio all'oltre mezzo miliardo di euro per il prolungamento della metropolitana verso nord in Brianza e verso sud ovest a Baggio, penso agli 88 milioni per la metrotranvia Milano-Lambiate, penso agli investimenti privati sulla Milano-Laghi, sulla Milano-Bergamo, penso grazie alle Olimpiadi all'Alecco-Bergamo, alla variante di Tirano, penso al recupero di tanti immobili in Lombardia finanziati o cofinanziati dal Ministero che ho l'onore di accompagnare. Penso ai gasometri in Bovisa, penso alla nuova statale nell'area MIND. Penso a una scelta attesa da decenni, positiva e rivoluzionaria, presa dal Consiglio d'Amministrazione della RAI per la costruzione del nuovo centro di produzione RAI in Fiera Milano e il Dì de Sant'Ambreuse, 7 dicembre, sarò presente in Fiera per festeggiare quella che è l'autonomia virtuosa di un ente non sempre virtuoso come la televisione pubblica italiana, ma penso a quello che stiamo mettendo a terra potenziando la navigazione laghi, portando la guardia costiera anche sui laghi Lombardi, al ponte di San Benedetto Po, al ponte di Calusco, al casello di Dalmine, all'uscita sulla 4 di Bergamo, alla Vigevano-Malpensa, all'allergamento dell'area cargo a Malpensa. Poi però qualcuno a sinistra dice è però il ponte? Ce lo diciamo nel cuore di Milano. La stessa società che ha portato i numeri di cui abbiamo parlato sul nucleare, che non conosco, Open Economics, è un organismo terzo, indipendente, non ho il piacere di conoscerli, ha fatto l'esame coste-benefici di un ponte di cui in Italia si parla da 52 anni senza essere mai arrivati al dunque. Siccome io sono un testone, se ritengo che una cosa sia utile al Paese la faccio. Bene, questa Open Economics, e lo dico in fianco a Santa Maria delle Grazie a Milano, voi sapete, lo dico soprattutto agli operatori economici, agli imprenditori e ai giornalisti presenti, secondo lo studio di questo organismo indipendente, qual è la regione italiana dove ci sarà una ricaduta di PIL grazie alla realizzazione del ponte più alto rispetto a tutte le altre regioni italiane? La Lombardia. La Lombardia. Questa Open Economics calcola 19 miliardi di euro di ricchezza nazionale aggiunta grazie alla velocità, alla modernità del collegamento stabile che non è fra Messina e Villa San Giovanni. è un corridoio unico, veloce e sicuro, Palermo, Roma, Milano, Berlino, Stoccolma. Ebbene, lo dico a qualche disinformato, il 29% del valore aggiunto del ponte sarà in Lombardia, con quasi 6 miliardi di PIL in più. Si sa, ed è giusto parlarne a Italia a direzione nord, qual è la regione Lombardia che, secondo questo studio terzo, non Salvini, avrà la maggior ricaduta occupazionale in termini positivi con quasi 10 mila addetti in più legati alla costruzione del ponte? La Lombardia. Ovviamente Sicilia e Calabria avranno uno sviluppo economico, turistico, infrastrutturale, sociale, ambientale senza pari. Perché è chiaro che il ponte è un acceleratore di innovazione, di modernità, che dà un senso ai 30 miliardi che stiamo investendo sulle strade, le autostrade e le ferrovie in Calabria e gli altri 30 miliardi in Sicilia. È chiaro che se arrivando io al Ministero non ho trovato la progettazione dell'alta velocità fino a Reggio Calabria. È chiaro che il ponte senza i treni veloci fino a Reggio, fino a Messina serve a poco. Ma siccome stiamo investendo per modernizzare e velocizzare i treni fra Palermo, Catania e Messina ed è finalmente in progettazione dopo anni di nulla l'alta velocità da Salerno a Reggio Calabria, è chiaro che se sto investendo 60 miliardi di euro, lo dico nella capitale economica del paese, per arrivare velocemente in treno a Messina e a Reggio Calabria e poi ho un buco e il treno che arriva lì velocemente viene fermato, viene smontato, viene messo sul traghetto, che inquina, ci mette tempo, poi arriva dall'altra parte, viene rimontato e riparte. Che senso ha? Ebbene, delle decine di migliaia di posti di lavoro che verranno creati non il reddito di cittadinanza o il sussidio, a livello indeterminato in Sicilia e Calabria, che sono due delle regioni europee a più alto tasso di disoccupazione giovanile, la prima regione a beneficiare del ponte in termini economici di PIL e di lavoro è la nostra Lombardia. Quindi il facciamo una cosa ma non facciamo l'altra, quello che dice Conte, no non facciamo il ponte, poi bisogna anche sapere due robe prima di parlare. Il Presidente di Cinque Stelle ha detto che col ponte si risparmiano dieci minuti. Amico mio, o ci sei o ci fai. Io non so se ha mai preso il ponte che non c'è o il traghetto che c'è per andare da una parte, ma mettetevi nei panni dei pendolari come quelli che vengono da Busto a Milano e stiamo investendo anche per finanziare le ferrovie regionali e dal PNRR stiamo tirando fuori centinaia di milioni di euro in più, non solo per l'alta velocità ma per gli intersiti regionali. Perché ovviamente l'alta velocità riguarda il 20% di quelli che prendono il treno. Ma quelli che prendono il treno vengono da Pavia, vengono da Varese, vengono da Bergamo e vengono da Sondrio a Milano per lavorare. Quindi va bene l'alta velocità Brescia-Verona-Vicenza, va bene l'alta velocità fra Milano e Torino, fra Napoli e Bari, però ovviamente il Ministro dei Trasporti deve occuparsi soprattutto dei treni pendolari, degli intersiti, dei regionali e stiamo investendo centinaia di milioni di euro per rinnovare questa flotta. Ebbene, io conto che in politica valgano sempre di più i numeri, oltre che i valori, la passione. Ovviamente da Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ascolto tutti i sindaci e incontro tutti i governatori. Se abbiamo trovato mezzo miliardo in più per il prognamento della metropolitana di Milano, non è pro o contro il sindaco Sala. perché Milano c'era, c'è e ci sarà, a prescindere dai governatori, dai ministri e dai sindaci. Quindi io mi confronto col governatore Emiliano per parlare del potenziamento dei porti pugliesi, così come mi confronto col governatore Fontana per fare quegli investimenti che la rete ferroviaria italiana avrebbe dovuto fare negli anni passati e guarda caso in Lombardia non ha mai fatto. Perché? Boh, non so darvi una risposta. Per me una ferrovia non è di destra o di sinistra. Un ponte non è di destra o di sinistra. Il nuovo casello di Dalmine non è un casello sovranista-autonomista. È un casello. Se Aspi sta ridisegnando l'uscita autostradale di Bergamo, che è una sorta di ruota della fortuna per i lombardi, figurati per i non lombardi, è perché è utile ai cittadini. Quindi io in questi 13 mesi dal ministro di Infrastrutture e di Trasporti ho cercato di portare il pragmatismo di Rito Ambrosiano sul nuovo codice degli appalti, sul nuovo codice della strada, sul piano casa, la cui prima riunione sarà il 19 dicembre, sul tema degli scioperi. Oggi l'Italia avrebbe dovuto essere ferma sul trasporto pubblico locale per uno sciopero di 24 ore indetto da alcuni sindacati di base. Lungi da me mettere in discussione il diritto allo sciopero, però come deve essere costituzionalmente garantito il diritto allo sciopero per una minoranza, deve essere ugualmente garantito il diritto alla mobilità, al lavoro, allo studio e alla salute per quelli, e sono 20 milioni di italiani che ogni giorno prendono l'autobus, il tram, il treno e la metropolitana. Quindi per carità di Dio non entro nel merito delle rivendicazioni contrattuali, salariali, politiche, poi perché io debba fermare l'autobus a Milano o a Roma contro l'autonomia o il premierato, però non entro nel merito, ne faccio una questione di metodo, oggi i mezzi pubblici funzionano, lo sciopero da lunedì, 27 novembre è stato riconvocato a venerdì, d'altronde o è lunedì o è venerdì, difficilmente è il mercoledì, è stato riconvocato a venerdì 15 dicembre, il penultimo venerdì prima del Santo Natale, e quindi farò anche per venerdì 15 dicembre quello che la legge e la mia coscienza mi impongono di fare, garantire il diritto allo sciopero per chiunque ritenga di farlo, e sono vicino agli autisti che rivendicano adeguamenti salariali, ma anche garantire il diritto alla mobilità per decine e milioni di italiani, per cui una giornata di lavoro in più o in meno fanno la differenza. E quindi al di là della polemica devo dire che sono stati 13 mesi sfidanti, appassionanti, perché quando hai la responsabilità della mobilità del paese da nord a sud e da ovest a est è complesso, però il 15 dicembre sono a Meda, in Brianza, per i lavori della Pedemontana, l'11 dicembre sono all'aeroporto di Venezia, con Zaia, per la posa della prima pietra e il collegamento aeroporto-città, stiamo viaggiando sulla TAV, sul Brennero, sul MOSE, anche lì negli anni mi sono andato a rileggere la letteratura antiscientifica in base alla quale il MOSE non serviva, senza il MOSE Venezia sarebbe andata sott'acqua decine e decine di volte e avremmo rischiato al di là dei miliardi di euro di danni di perdere un patrimonio mondiale, e quindi grazie a Dio ha prevalso la scienza e non l'incoscienza, ma questo vale anche per alcune ramificazioni del pubblico, perché c'è stato un tribunale amministrativo in Puglia che ha rischiato di fermare l'alta velocità fra Napoli e Bari e ai lavori ultimati si arriverà da tre ore a Roma e a Bari, come oggi si arriva in tre ore da Milano a Roma e sarà una valida alternativa all'aereo, perché una volta da Milano a Roma ci andavi solo in aereo, come oggi da Roma a Bari ci vai solo in aereo e quindi sarà la sostenibilità vera, non le auto elettriche a chiacchiere. Ebbene, un TAR ha provato a sospendere, poi fortunatamente altri organi sono andati avanti, i lavori spostando la ferrovia dell'alta velocità, perché lungo il tracciato gli ambientalisti avevano segnalato la presenza di alberi di Carrubo, che è vero ci sono, però io adoro gli alberi di Carrubo, i mandorli, adoro gli alberi in fiore, il cinguettio degli uccellini e il nuotare dei pesciolini, però questo non può bloccare lo sviluppo di un paese che per troppi anni non ha investito in infrastrutture. Il Carrubo lo puoi spostare. Qualcuno dice il ponte sullo stretto danneggerà i pesci. E dico, ma come? Gli ingegneri, non i ministri, gli ingegneri l'hanno deciso a campata unica, ovvero sia 3,3 km, ponte più lungo al mondo, senza pilastri in acqua, per evitare i problemi delle maree, dei maremoti, delle correnti, pilastri in Sicilia, pilastri in Calabria, 400 metri d'altezza, funi d'acciaio del diametro di un metro e mezzo, treni, auto, moto, non c'è il pilastro in acqua. Come facciamo a danneggiare la fauna ittica? L'ombra. L'ombra prodotta dal ponte potrebbe turbare i pesci. Io penso che molti pesci siano più senzienti di alcuni esseri umani. E se quel pesce avrà un danno dall'ombra si sposterà di qualche metro, senza che le sue capacità riproduttive ne risentano eccessivamente, così come gli uccelli migratori se hanno un metro e mezzo di diametro d'acciaio e migreranno o un po' più su o un po' più giù, sono mica scemi gli uccelli che si vanno a impiastrare con to. Però questo per dire, io ho decine di milioni di euro di investimenti già finanziati e progettati fermi sulle autorità portuali e io mi sono letto alcuni provvedimenti surreali a proposito di ideologia che sopravanza l'idea, perché alcuni organismi pubblici in questo caso, non gli ambientalisti, pretendono che la società portuale pianti degli alberi sulle banchine in cemento armato di alcuni porti industriali. Ora, che beneficio per l'ambiente e la stessa sopravvivenza dell'albero, vorrei vederla, questo non è ambientalismo, questa non è Greta, ma neanche Greta, penso, vorrebbe piantare degli alberi sulle banchine in cemento armato di un porto industriale. Quindi, 13 mesi vissuti nel nome dello sviluppo, dell'innovazione, noi abbiamo solo come rete ferroviaria italiana 20.000 ponti, viadotti e gallerie, come rete autostradale pubblica 30.000. Quindi alzatevi voi la mattina come Ministro dell'Infrastruttura e dei Trasporti con 50.000 ponti, viadotti e gallerie, non sempre negli anni passati manutenuti con particolare attenzione e curatela. Anche perché poi, spesso e volentieri, quando succede qualcosa per parte dell'opposizione, ovviamente è colpa di Salvini, di chi vuoi che sia colpa. Ti hanno fregato la bicicletta, è colpa di Salvini, perché è Ministro di Trasporti, quindi se ti hanno fregato la bicicletta è colpa sua. Io sono contento di aver dato impulso, di aver sbloccato alcune infrastrutture che erano ostaggio della burocrazia da decenni. Penso ad alcune dighe, ovviamente non è una questione del centro storico di Milano, però il MIT sovrintende anche la gestione e manutenzione di più di 500 dighe e se l'acqua fa il suo mestiere e purtroppo quando non c'è i campi hanno sete e quando è troppa l'acqua fa i danni, i morti e i disastri, ovviamente non è colpa dell'acqua. È colpa anche di una mancata gestione, programmazione del territorio nei decenni passati. Perché se per colpa di un frainteso ambientalismo ideologico che ha l'ambiente come sua prima vittima non puoi toccare l'albero anche se cresce nel greto del fiume, non puoi dragare il torrente perché è la ghiaia che ne togli è rifiuto e non è semplice ghiaia, è chiaro che se il greto nei fiumi nei decenni si alza e le piante crescono in mezzo, quando l'acqua da monte arriva a valle ed è troppa, il fiume, soprattutto se non hai fatto bacini di espansione, vasche di laminazione e dighe a monte, il fiume fa il fiume. Quindi noi fortunatamente, e Taccio, ci proponiamo come governo di fare qualcosa che negli ultimi decenni non è stato usuale, di durare. Di durare. Come stiamo progettando infrastrutture che hanno l'obiettivo di durare, la semplice durata quinquennale del mandato che gli italiani ci hanno dato mi permette di progettare. Perché è chiaro che se cambia un ministro dei trasporti ogni anno e cambia un governo ogni anno, un anno sì e un anno no, arriva il sindaco, arriva il governatore, arriva l'imprenditore, arriva il costruttore, arriva la società pubblica e privata e ti cambia. E arriva Toninelli, arriva la De Micheli, arriva Giovannini, non entro nel merito della valutazione di persone perché tutti, chi più chi meno, hanno fatto, costruito e lasciato qualcosa di positivo. Però è chiaro che se arrivi domani al ministero di Portapia e sai che il ministro con cui stai parlando di una grande opera che comporta investimenti per 10 miliardi, l'anno prossimo non c'è più e magari l'anno prossimo ti arriva uno che la pensa esattamente in maniera contraria e quella grande opera la ferma, è chiaro che per un grande investitore italiano o straniero che sia è complicato. Bene, il mio obiettivo, a Dio piacendo, è di rimanere in quell'ufficio fino al 2027 per dare continuità e non inseguire l'emergenza come facevo da consigliere comunale a Milano perché alcune grandi infrastrutture che oggi vediamo su Milano da Malpensa a City Life al recupero di alcune aree dismesse qua per i milanesi con qualche anno in più sulle spalle come me, la Varesina una volta quando ero piccolo era all'area del Luna Park dove andavi al Luna Park non era una delle aree con gaio e ulenti annessi e connessi più innovative d'Europa. In piazza 6 febbraio c'era la fiera campionaria e la fiera del giocattolo dove si andava sotto Natale non c'era City Life e quindi io ringrazio Milano perché guarda sempre a prescindere dalla politica un po' più avanti e quindi perché parlando di nucleare ho detto a Milano perché spesso e volentieri la politica fino a dove le conviene arriva quando poi c'è un problema vai avanti tu che mi viene da ridere siccome io sono convinto che il nucleare sia nel futuro del paese non dico solo il nucleare ma anche il nucleare perché va bene l'idroelettrico va bene l'eolico shore va bene il fotovoltaico va bene il treno a idrogeno Brescia Iseo Edolo perché va bene la Tesla elettrica per chi se la può permettere ma va bene anche il nucleare perché non possiamo riempire l'Italia l'Italia di pale eoliche o di pannelli solari non basta chi pensa che nei prossimi anni possiamo fare a meno del gas mente sapendo di mentire prende in giro la gente non possiamo chi pensa che tutte le merci improvvisamente nell'arco di pochi anni per una direttiva europea possano passare dalla gomma al ferro o è ignorante o è arrogante perché è chiaro che Tav Brennero Ponte sullo Stretto hanno l'obiettivo di spostare le merci dalla gomma al ferro però servirà anche la gomma servirà anche l'auto chi da sindaco impedisce di venire a Milano a lavorare a chi non ha la macchina ultimo modello non fa il bene dell'ambiente danneggia centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori che vorrebbero venire a lavorare a Milano chi pensa che in città bisogna andare solo a 30 all'ora non aiuta lo sviluppo della città per carità di Dio in alcune aree è giusto andare a 30 all'ora però non si può venire a Milano a lavorare solo con l'auto elettrica la bici o il monopattino lo sto mettendo nel nuovo codice della strada gli autovelox vanno bene nei punti sensibili ad alta incidentalità dove salvano le vite ma gli autovelox messi random in giro per l'Italia per fare cassa e spennare gli automobilisti non salvano le vite e l'ambiente servono solo a rimpinguare alcune casse sono battaglie comode no se avessi voluto la vita comoda non l'avrei fatto nel ministro dei trasporti nel segretario della Lega avrei scelto altro mestiere e altro partito però Milano non ha mai scelto la vita comoda Milano con le cinque giornate ha dimostrato che non sempre l'arroganza del potere dai cittadini può essere digerita senza proferir parola quindi vuoi che sia il nucleare vuoi che sia l'alta velocità vuoi che sia il canale navigabile Milano Cremona Poda di cui si parla da una vita vuoi che sia l'allargamento di Malpensa noi stiamo portando l'alta velocità Malpensa stiamo portando nuove strade con la Vigevano Malpensa e qualcuno invece di allargarla vorrebbe ridurla Malpensa quindi va bene l'ambiente ho due figli figura io non penso che in questa sala qualcuno stamattina potrebbe pensare spero che l'Italia sia più inquinata fra trent'anni tutti vorremmo l'acqua più pulita l'aria più pulita e su questo stiamo lavorando il 75% degli investimenti come MIT hanno la sostenibilità al primo punto però ovviamente con buon senso con equilibrio non vorrei un paese fra vent'anni che mette lo 0,1% di CO2 più green e disoccupato perché la decrescita felice è una fesseria che non mi convince quindi io penso che se la santa alleanza del popolo del sì che è diffuso su tutto l'arco partitico culturale costituzionale anche grazie a giornate come quelle di oggi avrà la meglio noi lasceremo ai nostri figli un paese più moderno più veloce più sicuro più green in maniera intelligente più infrastrutturato io per altri quattro anni conto di sbloccare progettare finanziare opere di cui l'Italia ha assolutamente bisogno pensiamo al traffico sulla Milano Laghi di cui abbiamo inaugurato la quinta corsia o le code sulla Milano Bergamo su cui stiamo lavorando e su cui abbiamo inaugurato la quarta corsia dinamica stiamo lavorando al piano casa al piano nazionale idrico alla riforma della governance dei porti al piano nazionale della logistica e degli aeroporti penso che in tredici mesi si sia notato il cambio di passo e quindi vi ringrazio e da milanese conto di portare ogni giorno al ministero di Portapia il sano pragmatismo la visionarietà e la concretezza prettamente ambrosiana quindi viva l'Italia dei sì grazie buon lavoro e buon viaggio a tutti voi grazie mille grazie mille per questa bella visione del paese e del futuro grazie mille Grazie a tutti.